Può ancora vincere, cecchinata, no scu- OOOOOOOH OOOOOOOH One is one Non ci credo Oh mio Dio Eh? La mitalletta blu Spasso oro Quante armi ha acquisto? Poi già morendo Cosa? Ancora non hai messo like e soprattutto non usi il codice creatore rosa mica sul negozio Bene, spero di sia chiaro Come è stato detto, spero come sempre alla grandissima Oggi, ragazzi, vi porto una delle mie sfide con gli streamers in live E come avete letto nel titolo, oggi andrò a donare 100 euro a un qualsiasi youtuber o streamer sconosciuto Che però mi porti a casa una vittoria Mi sembra abbastanza semplice, no? Quello che vi chiedo a voi ragazzi è solamente di lasciare un pollice in su Se arriviamo a 10.000 like farò un altro episodio con qualsiasi altro sconosciuto E ragazzi, commentate qua sotto qual è stata la skin, quindi il nome della skin del quinto eliminato in questo video Il primo che lo fa lo seguirò su Instagram Iscrivetevi al canale, mi raccomando, ora prendete la vostra Coca-Cola, Popcorn E verrà sì, come sempre, let's go Allora gente, iniziamo Ho trovato il primo, il primo concorrente di questa serie Li ho già scritto nella chat, stavano giocando Ora che hanno finito, li propongo una sfida Scorpio Porti una vittoria in solo per cento e... Eh? Però, cioè ti direi anche sì, però... Posso dire che... Frate io la punterai Va bene dai, ne faccio... Oh raga, l'ho convinto eh Vi dico semplicemente perché la perderò L'axia Raga, ha deciso di giocarsela un po' da camper eh Sta giocando in pubblica, in pubblica Vediamo come andrà, dai Vediamo ragazzi come inizia questa partita allora Comunque non si vede male la live Mi piace questa qualità Attenzione, l'entrata è un 31 eh Sì, solo un 31 Oh, ha cambiato barca, what? 24 l'ha craccato Attenzione Va su, vai, vai, vai Eh no, e ti scappa Eh sì, vai, vai, siete solo in 30 Ormai è quasi finita Occhio, mi sa che sono visti, sì, sì Si stanno per fightare finalmente Ho un po' di action Ma mi sa che è un caramellito bello e buono eh Sa che è un bel caramellito Attenzione però, gli prende l'altezza il caramellito What the hell, dal nulla What the hell Li riprende l'altezza però adesso il nostro amico Daniele Eh sì, è su Ciao Vaffanculo, via, via, via Aia, gli fa cadere, gli fa cadere Ha solo due razzi Ha solo due razzi E decide di andarsene Ho iniziato a fightare Devo andare in safe Ed è arrivato un altro Aia Sono altri due Guarda, che schifo Ti gioco Fino a mezz'ora fa Non trovavo nessuno Adesso sono in tre davanti a me È lì, è lì, oh, è lì Ma dove si è coperto quello? Dovevi spararli con la R Dovevi spararli Oh Oh Attenzione, è sopra di lui Di nuovo Si è messo a fightare Che cosa compinerà? Sta andando sopra Sta finendo i materiali C'è pure lo spasso Ha detto Ma tu c'hai comunque un tattico blu Ma lo spasso Edita bene Va sotto È giù, è giù Ha solo un razzo Ultimo razzo È sotto di lui Vediamo se fa razzo Pam Vediamo, vediamo Oh Madonna lì sta Per scoprire il razzo in faccia 86 L'ha craccato L'ha craccato È concentratissimo Vediamo come se la cava Manca ancora un sacco di tempo Comunque per uscire È caduto È sopra di lui Madonna Anche lui adesso è craccato Non so quanta vita abbia Sì in alto a sinistra Tipo 75 di vita È andato giù Non so se quello ha cure Ma di certo Non è messo Oh Si porta a casa la kill Però non ha cure Guardalo La mitra ditta blu Spasso oro Quanti armi ha questo Sta pusciando un altro Accento di materiale Sì Sta pusciando un altro Accento di materiale Come se la caverà È lì Aia Aia Ok Quello è andato su 90 di materiale Ce la farà o non ce la farà Il nostro amico Ma va davvero Ti l'ho detto Guarda un merdo Attenzione Attenzione Come pensare Occhio È andato giù Deve pensare Giustamente È partita la tempesta Non ha shield Ha cento di vita C'ha 12 razzi Quindi potrebbe usare bene Il lanciarazzi A suo favore Vediamo se lo tira giù O no Oh Oh Sta ricaricando i razzi Quello è sopra È dietro di lui Lo ferisce C'ha tipo 40 Ah no C'è i pesciolini Oh Di nuovo 75 Che sta per usare Tutti i pesciolini E viene sciolto Ciao Bella No bro Grazie mille lo so per un euro Grazie mille veramente Raga scriviamoli Vediamo ragazzi Vediamo se accette Tanto gli ho messo anche Oh Mi sa che accette Giassco Coconuta Mi sa che accette Perdo dai Puoi anche uscire dal canale Io ve lo dico Se muoio lo start Mi ritiro E vado a giocare a Monopoli Ragazzi ci siamo Giassco Coconuta Siccome mi sento molto Molto xyudere in questo momento Vado a scogliere Cos'è quell'esempio Dove c'è Devi vincere È concentrato Focussato Eccolo là Sopra Oh gli ha fatto 31 Però Ha una buona mira Quello là Attenzione Ha una buona mira Ho avuto fortuna Dai vieni qua Comunque Gli è entrato subito al colo Sta pushando Di cattiveria Lo sta pushando di cattiveria Ma che è Si chiude lui C'è la finestra lì Perché non gli mette un pavimento Ah eccolo lì Che l'ha messo Gli ha preso Oh 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 L'ha ucciso Stavo già morendo ragazzi Ve l'ho detto No way Stavo già morendo Attenzione ragazzi Se ne sta andando Oh l'ha visto L'ha visto È lì dentro Sta andando a fightare C'è il mio studione quello Si Li lancia le granate Saggiamente Forse lo può uccidere Con le granate lì No dove le hai lanciate Ah forse non si incastravano Per bene lì dentro Vediamolo Sta pushando Mi piace Mi piace perché pusha E questo è importante Nelle sfide Dov'è? Far vedere che non hai paura Vedere che Sei qua per competere L'ha andato Cioè è sparito Veramente Ragazzi l'ho visto anch'io eh L'ho visto anch'io Oh Oh Cosa Era nascosto No way Era nascosto lì Non ci credo Era nascosto Dietro la scala Che camperigno Che camperigno Non ci voglio credere Aia Aia Oh mio dio Aia E l'è chiuso Oh Gli fa 40 Se la sta giocando bene Se la sta giocando bene Oh Ok GG GG E siamo a 2 E siamo a 2 Prendo sta cassa E me ne vado raga Oh Perfetto Scudone E scildini Scudiamo del tutto Mamma mia Vediamo ragazzi Tra qualcuno Sono in 15 Le sue probabilità Stanno aumentando Ogni volta Che scende quel numero Ragazzi Sono rimasti in 11 Non si sa dove la gente Ma sta morendo Oh Ce n'è uno là Ma visto? Ce n'è uno là Mi sa che non l'ha visto Sparito Secondo me Ce l'ha Sulla destra Sono in 11 Chissà come finisce Questa partita Oh Da dietro Attenzione Un altro fight Un altro fight Si era nascosto Li prende l'altezza Però Quello si chiude Un altro Uh ce n'è un altro sopra Ai 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 Vai giù lui Saggiamente Prende un po' di vita Non l'ha fatto apposta Pensavo volesse andare giù Intanto si fightano gli altri due Voglio buttare tutto giù lui Intelligentemente Ma secondo me è troppo collegato a tutto Tranne la sua torre Attenzione Si stanno uccidendo Ne dovrebbe approfittare Eccolo lì Si chiude un attimino Riesce però a salire E' lì di fianco Si prende un hit 158 di vita Ancora Cildini però Oh 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 Va bene raga GG Mancavano pochissimi Grazie comunque Mi sono divertito No grazie a te Di essere passato Davvero Va bene Già scocco Un saluto E andiamo a sfidare qualcun altro Ragazzi allora Mi trovo in un'altra sfida Non stavo Non stavo registrando E lei è già morta Vi spiego in breve Cosa è successo Sono entrato Stanno giocando in duo Lei è morta Ed è rimasto solo il suo compagno Alexandro C'è uno davanti Oddio Ti costruisci E quindi insomma Può vincere o lui O niente Comunque ne mancano 15 C'è solo Alex Vandro In solo versus duo Resti sulle montagne Resti sulle montagne Vatteni in safe Vandro Prova Attenzione lo sta Lo sta accocciando Io sto qua Guardare insieme a voi Comunque anche se è morta Continua a dare supporto al suo compagno È importantissimo questo Almeno non si sente solo Sulla montagna Attenzione abbiamo problemi tecnici Ha messo una scala Ora ci siamo Una cechinata Che li puoi piccare Dai 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 Vedi che stanno con la testa da fuori Tutti e due Stavano Vedi Vai 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 Picca picca Lì a destra Ma dopo Ho paura che gli arrivi una cechinata a lui adesso Non stare fermo Non stare fermo C'è un ottimo supporto che le sta dando la nostra fight games No infatti no Fight games È quello che ti sto cercando di dire È quello che ti cerco di dire Sta puntando l'altro Quindi a te non ti caga proprio Vai No Vai 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 No ma un po' più in su Bene Un po' più in su Un po' più in su Vattene in safe che stanno impegnati loro Fidati di me Fidati Tras Vattene Fidati del tuo coach Sta velocemente Salta 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 che ti piccano così Salta Ok Vattene in quella casa Quella è la nostra casa Vandro Quella è la nostra salvezza Vai in quella casa Oh eccolo qui arriva uno C'è la trappola lì però C'è veramente qualcuno dietro C'è la trappola lì Entrato E lo killa Ragazzi ne mancano Ragazzi ne mancano cinque Mamma mia Resta qua Mi mancano cinque Te l'ho detto che funziona Raga quali sono le mie tecniche da bot Quando gioco da sola ho bisogno di fare le missioni Le tecniche da bot non le conoscevo Fermo fermo Tu non fai niente Riordina lì Ragazzi ce la farà Non ce la farà Sta camperando tantissimo Lei Il super camper Cioè le strategie super camper Lascia di stare Tu lascia di stare Di rispostare solo se cambia la safe Ce n'è uno qua eh Occhio ce n'è uno qua E c'è ancora la trappola credo Ho detto la tarolaccia Però mi sono spaventata Aspetta Ce ne sono due Fermo Fermo Vandro Fermo Un minuto eh Si deve spostare Funzionerà la strategia da caramelito camper O no Entra Entra Lei è spaventatissima Lei è super in ansia Uh Ce l'ha lì davanti Stanno costruendo Ne ha due Qua deve spostarsi sì Qua deve spostarsi proprio sì Eccolo lì Sta scendendo È il momento giusto Sta andando da sinistra Ce l'hai bro Se la vinco da un urlo raga Se la vinco da un urlo Può ancora vincere Cecchinata No scu- Oh 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 Il miralo La cechinata del miracolo La cechinata del miracolo Dopo questa può succedere di tutto Ce l'hai dietro Ti devi coprire Ti devi curare C'hai gli scildini C'hai tutto Chiuditi sopra Chiuditi sopra Scildati Chiuditi 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 Anzi che mi viene per lui Allora Sono rimasti Dietro di te hai un airdrop Magari puoi sperare in qualcosa Sono rimasti In cinque ragazzi Chiuditi Che natale ha tirato Cioè si è tirato fuori In jolly E pow Occhio Si spaventa per lui È normale Uno è morto È vero ragazzi Gli ultimi tre Gli ultimi tre Gli ultimi tre È improbabile ragazzi Tutto può succedere Ce l'ha lì a sinistra Ce la può fare Si sta nascondendo tantissimo Ne va della vittoria Ma cosa sto guardando Oh è lì Di fianco Scende dall'albero Non l'ha visto È sopra di lui Non lo vede Raga L'hai passato davanti Non ci voglio credere Non lo vedono Non ci voglio credere Ma non lo vedono Deve muoversi Arriva la safe E c'è pochissima vita Devi muoverti da lì E tu sei due Eccolo Eccolo si è mosso Ma c'è il materiale Ma nessuno lo vede qui Ce l'ha lì davanti Fai Oh Solo 24 Perdonami cosa Metti una scala Sali 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 Lo sta costruendo Vado che ansia Devi costruire Olio È andato sotto È andato sotto È andato sotto Intelligente questa cosa Ok c'è uno là Le vedi le scarpe Col cecchino Sul piedino Ragazzi Ultimi Sono One bis One bis Due Oh la va la spacca C'ha pochissima vita Però gli ha fatto danno Vediamo Vediamo È sotto Di lui No non l'ha sgamato Sono rimasti due One bis One Non ci credo Oh mio dio No 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 Ci ho credito Vino all'ultimo No Ci ho credito Vino all'ultimo Sì Clippa No way Vai 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 Come mi batte il cuore Ragazzi Detto questo Vi saluto Mamma mia Spolliciate Se volete Altri video Come questo Noi ci vediamo Domani mattina Alle 10 Buon nuovo video Fateci bravi Cia ragazzi